Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione su Telestense, tante le notizie come sempre purtroppo apriremo tra poco con una drammatica notizia di cronaca o meglio due perché ci sono due vittime ancora sulla strada e vi descriveremo quello che è successo nelle ultime ore. Parleremo anche molto di agricoltura con due iniziative distinte, innanzitutto quella di Confagricoltura che ha parlato delle nuove frontiere appunto per i prossimi anni ma anche di Agricoltura 5.0 con le novità di Agri Levante e poi ancora torneremo a occuparci del Centro San Giorgio, da gennaio si torna a 70 posti letto, vi racconteremo anche iniziative di questi ultimi giorni tra le varie quelle del volontariato in festa in Piazza Riostea e dei Lions che hanno avuto un grande riscontro con il test del diabete di venerdì mattina e per finire SPAL, SPAL che torna al Paolo Mazza con la sfida contro il Pescara. Ma come dicevo in apertura purtroppo apriamo con ancora due vittime sulle strade del Ferrarese, nelle ultime ore infatti ci sono stati due sinistri appunto che hanno coinvolto diverse aree della provincia, nell'Argentano esattamente un motociclista di 53 anni, Davide Alfano ha perso il controllo del veicolo su cui viaggiava senza il coinvolgimento di altre persone. L'incidente è avvenuto sulla strada statale 16 e le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto e nella notte a Poggio Renatico un 41enne di Galliera, Stefano Bentivogli, è uscito di strada con la sua auto rimanendo incastrato tra le lamiere. Anche in questo caso sono intervenuti tempestivamente sanitari, forze dell'ordine e vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'era più nulla da fare e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Adesso cambiamo argomento, parliamo delle nuove frontiere dell'agricoltura, si chiama così la giornata organizzata da Confagricoltura Ferrara dove si è parlato di scienza e innovazione al servizio di un futuro sostenibile. Tanti protagonisti che si sono confrontati a Palazzo della Racchetta e questa sera sentiamo in particolare le dichiarazioni di Francesco Manca, presidente Confagricoltura Ferrara, Massimiliano Gian Santi, presidente Confagricoltura, Luca De Carlo, presidente Commissione Agricoltura, Turismo, Industria e Produzione Agroalimentare del Senato e Alessio Mammi, assessore all'agricoltura della Regione Emilia-Romagna. Siamo con il presidente di Confagricoltura Ferrara, Francesco Manca, una giornata sicuramente molto intensa questa in cui si parla delle nuove frontiere dell'agricoltura. Intanto perché nasce questa giornata? Questa giornata nasce da un duplice obiettivo. Prima di tutto vogliamo fare una riflessione insieme a scienziati, divulgatori, istituzioni, agricoltori e cittadini sul futuro del modello agroalimentare. Abbiamo bisogno di fare un'opera di divulgazione, di comunicazione su quello che succede veramente in campagna. Abbiamo bisogno di comunicare al consumatore che quello che mangia è un cibo sano e sicuro, prodotto attraverso filiere estremamente controllate che gli garantiscono il meglio dell'alimentazione umana, il meglio dell'alimentazione a livello globale. Quindi c'è bisogno di entrare nella città, di comunicare a un pubblico ampio. E d'altro canto abbiamo bisogno di spingere l'acceleratore sull'innovazione, di rinsaldare un patto forte con scienze e tecnologia, di spingere su ricerca e sviluppo e su trasferimento tecnologico. Insomma abbiamo bisogno di tutte le migliori forze, di tutte le migliori menti, di tutte le migliori spinte dalla società, dalla ricerca, alle istituzioni, all'economia per alla fine arrivare al consumatore, per traguardare il futuro di un modello agroalimentare che sappia reggere le sfide del cambiamento climatico e le sfide dei mercati. Insomma dobbiamo guardare il futuro con speranza e fiducia e per farlo dobbiamo assolutamente puntare su scienze e tecnologie. Finalmente emerge un squarcio di luce importante rispetto al buio a cui sono stati costretti gli agricoltori in tanti e tanti anni. Ripenso a quando venivo qui a Ferrara cinque anni fa e già allora noi presentavamo la necessità di avere un'accelerazione sull'Etea. Sono trascorsi cinque anni e finalmente abbiamo avuto dalla politica quelle risposte che aspettavamo e quindi il dibattito parlamentare avviato e su questo evento ringraziamo le forze politiche, il senatore De Carlo che hanno fortemente voluto accelerare. Oggi è il tempo delle sfide, sfide importanti e significative per gli agricoltori da una parte un mercato globale in cui impegna i nostri agricoltori a essere sempre più competitivi e laddove possibile produttivi. Dall'altro gli effetti di cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti noi, siamo al 7 di ottobre e sembra di essere ad agosto. Rispetto a questo l'agricoltura ovviamente ha bisogno di più scienza, di più ricerca, di più tecnologia e per far questo dobbiamo aprirci, dobbiamo aprirci al progresso. Abbiamo bisogno quindi che l'Etea diventi in realtà il prima possibile perché grazie all'Etea gli agricoltori saranno messi in condizioni di produrre di più, di preservare le risorse naturali su cui tutti i consumatori sono molto attenti, dove l'opinione pubblica chiede anche agli agricoltori di fare attenzione. Ma ecco queste sfide si vincono se la ricerca diventa realtà. Bellissimo incontro, tra l'altro organizzato molto bene da Confagricoltura Ferrara che parla al futuro dell'agricoltura finalmente e non solo al presente che è difficile, però insomma stiamo cercando gli strumenti per affrontare tante nuove sfide, però dobbiamo guardare al futuro, un po' come ha sempre fatto Confagricoltura, avere una visione e avere una strategia. In questa strategia ricadono le tecniche di evoluzione assistita, l'iscrizione e l'istituzione del registro dei crediti di carbonio, sburocratizzazione dei vincoli paesaggistici che aiuterà tanti agricoltori a snellire le procedure, ma tutto con uno sguardo verso il futuro per produrre di più e produrre meglio. Oggi l'emergenza assoluta è salvare le produzioni ortofrutticole, in particolar modo dal cambiamento climatico e dare gli strumenti agli agricoltori per difendere i loro prodotti, quindi il tema di cui oggi parliamo è molto importante, rappresenta non il futuro ma il presente. Intervenire sulla genomica significa poter avere in tempi più rapidi delle varietà ortofrutticole resistenti ai cambiamenti climatici ma anche produttive, quindi capaci di garantire sicurezza alimentare. La Regione Emilia Romagna è già impegnata su questo settore, abbiamo delle serre curate insieme a varie università italiane dove già stiamo mettendo in pratica queste tecniche genomiche, però abbiamo bisogno di poter portare questi studi e queste informazioni fuori dalla serre direttamente in campo e quindi è molto importante il regolamento europeo che il 5 di luglio è stato proposto e ci auspichiamo venga approvato rapidamente. E adesso andiamo ad Agri Levante, la rassegna dell'agromeccanica sta registrando numeri di partecipazione significativi e tra le novità di questa edizione che si conclude, ricordiamo, domenica 8 ottobre abbiamo anche un'area ad hoc per vedere all'opera macchine, robot ed elettronica avanzata. Vediamo. L'elettronica avanzata è i robot agricoli in un'area dimostrativa come quella dove ci stiamo trovando e cioè un vigneto allestito appositamente proprio per vedere al lavoro le innovazioni e le macchine più precise per quanto concerne l'agricoltura 4.0 o come ormai possiamo già dire l'agricoltura digitale. Questa è sicuramente una delle novità di questa edizione di Agri Levante 2023. Real Robotic and Electronics Agriculture Live. In pratica voi ogni giorno in orari specifici spiegate al pubblico quali sono le innovazioni, quali sono le novità di macchinari talmente e di precisione che diventa quasi complicato spiegarli forse per certi aspetti, però facciamo un po' il sommario. Quali sono state le attrezzature e i macchinari che avete illustrato? Allora intanto un appunto, un accendo sulla genesi del nome Real perché vuole proprio rappresentare il fatto che non è più una cosa in divenire. Adesso è realtà avere i robot agricoli in campo. Chiaramente Agri Levante ha una vocazione per le culture dell'area mediterranea, quindi stiamo parlando soprattutto di vigna, di fruttetti, di uliveti, tutte queste culture meravigliose che hanno delle caratteristiche molto particolari e che richiedono macchine altrettanto particolari e dove spesso anche magari manca la manodopera umana, ormai è un problema che stiamo affrontando sempre di più e proprio per un po' risolvere anche questi problemi ci sta venendo in aiuto la robotica che diventa sempre più accessibile sia economicamente che in termini anche proprio di semplicità d'uso. Non sono più macchine, non dobbiamo pensare a 2001 di sede o spazio a Terminator, che ne so, però macchine che sono impossibili da usare o pericolose. Sono macchine obiettivamente che con uno smartphone che ormai siamo tutti abituati ad utilizzare o qualche strumento in più laddove serve riescono a fare tante cose. Nello specifico abbiamo tre categorie di macchine, abbiamo le macchine volanti che sono di due tipologie, quindi quelle per fare acquisizione, quindi capire qual è la qualità della cultura, qualità del terreno, il benessere della pianta e poi ci sono quelli invece per fare di fatto trattamenti, come trattamenti di erorazione piuttosto che di tipo biologico con insetti predatori appunto degli infestanti delle piante. Abbiamo sistemi di sensing a terra, quindi sistemi che fanno dei rilevamenti per capire appunto lo stato delle colture, sono un'infinità, i parametri si possono estrarre e tutti questi dati vengono poi utilizzati per decidere come lavorare nella maniera migliore possibile nel campo. E poi abbiamo le macchine autonome che fanno i trattamenti, in particolare qua abbiamo delle macchine portattrezzo di fatto, quindi che fanno diverse cose e alcune macchine specializzate su trattamenti specifici come l'erorazione. Una notizia importante dall'ambito della sanità, dal 1 gennaio 2024 i posti letto del centro di riabilitazione San Giorgio torneranno ad essere 70. Questa è una prima buona notizia che rassicura i cittadini e il personale che in questi mesi si era dimostrato preoccupato, ma non è l'unica, l'azienda USL di Ferrara e l'assessorato regionale della sanità confronteranno a stretto giro per valutare insieme le azioni di sostegno e miglioramento dell'attività di questa eccellenza a livello regionale e nazionale. Lo afferma la consigliere regionale capogruppo PD di Emilia Romagna, Marcella Zappaterra, che spiega che questi sono i punti salienti e le rassicurazioni contenute nella risposta dell'assessore Donini all'interrogazione che ho presentato in merito. L'azienda ospedaliere universitaria di Ferrara è centro hub della rete regionale per la riabilitazione delle gravi cerebro lesioni dell'Emilia Romagna. Il centro riabilitativo è parte integrante dell'ospedale di Cona e punto di riferimento per la riabilitazione per il territorio della provincia di Ferrara e della regione Emilia Romagna. E adesso cambiamo argomento, è stata dedicata alla vita e le parole di Natalia Ginzburg, la conferenza di Daniela Cappagli, del direttivo dell'Istituto Gramsci di Ferrara e cofondatrice di Fare Diritti, che si è tenuta mercoledì 4 ottobre alla Biblioteca Comunale Bassani. Vediamo. Un nuovo appuntamento mercoledì 4 ottobre alla Biblioteca Civica Bassani di Barco, del ciclo Le donne scendono in biblioteca, promosso da Fare Diritti, dedicato a una donna di grande autorevolezza nel panorama letterario e politico dell'Italia del Novecento. Natalia Ginzburg, scrittrice, dramaturga, traduttrice e politica, è stata una figura di primo piano della letteratura e della società italiana del secolo scorso. Ha scritto romanzi, racconti, saggi, opere teatrali che sono stati anche di ispirazione di famosi film. Molti dei suoi libri sono costruiti attraverso lo sguardo di donne, Natalia Bambina in l'esco familiare, donne giovani, anziane, donne adulti con i loro figli come in Caro Michele, homenage di coppia fra l'amaro e l'ironico come in Ti ho sposato per allegria, romanzi e commedie che sono entrati, grazie al cinema, nell'immaginario collettivo degli italiani. Per la Ginzburg essere donna significa denunciare la drammaticità del ruolo femminile, liberandosi dalle differenze di genere, ha detto in apertura Daniela Cappagli, che ha ricordato con empatia i momenti drammatici della vita della scattrice, moglie di Leone Ginzburg, italiano di origine rossa e ucraina, tra i principali animatori della cultura italiana negli anni 30, letterato antifascista e per questo impregionato, torturato e ucciso dai fascisti nel 1944. Le parole d'amore che Daniela Cappagli ha letto, scambiate fra i due coniugi alla vigilia della fine drammatica di un matrimonio d'amore tormentato dalle vicissitudini dell'Italia fascista, una lettera piena di coraggio di Leone e una poesia che trasferisce il pathos dei sentimenti di Natalia nella forma classica di un linguaggio quotidiano senza cedimenti motivi, ha suscitato nelle ascoltatrici momenti di vera commozione. La Ginzburg è stata una donna schiva e discreta, che ha saputo interpretare e vivere il ruolo prezioso di madre e di moglie, ma anche di figlia, senza mai rinunciare all'impegno intellettuale civile vicino ai figli e al secondo marito, lo scrittore Gabriele Baldini, anglista e studioso. Lavorandola a casa editrice in Audi a Torino, fucina di alcuni degli scrittori più noti del secondo novecento, Natalia Ginzburg ebbe fra gli amici più cari Cesare Pavese, Giorgio Bassani, Pierpaolo Pasolini, Italo Calvino. La sua vita ha permesso a Daniela Cappagli di toccare a volo d'uccello gli eventi di un secolo bello e terribile di cui Natalia Ginzburg resta una figura di intellettuale di politica, oltre che una testimone, di qualità umana degna di essere portata alla conoscenza delle generazioni più giovani, in particolare delle donne, che è uno degli obiettivi di fare diritti. E ha preso il via una campagna di comunicazione e valorizzazione dei prodotti ittici chiamata Un Pesce Aldì, imparare ad acquistare, scegliere, conservare e gustare i prodotti ittici in sicurezza. Coinvolto nel progetto c'è anche l'Istituto Orio Vergani e quindi sentiamo il dirigente scolastico Massimiliano Rubinati. L'iniziativa nazionale di ampio respiro alla quale hanno partecipato e stanno partecipando 22 istituti su più di 300 che esistono in Italia, l'intento è quello di promuovere il consumo consapevole del pesce e far conoscere tutte le specie in relazione ai vari territori. Quindi tutto nasce da un'idea e da un progetto ministeriale, quindi il Ministero dell'Agricoltura quindi qualcosa di estremamente importante anche perché vede un network a quale partecipano Assoittica, la filiera ittica, la rete degli istituti alberghieri dell'ittico e soprattutto l'ordine dei veterinari a livello nazionale. Per cui un progetto di ampio respiro che aveva un suo format. Abbiamo avuto l'edizione ferrarese ieri, è stato un successo, io devo ringraziare tutti i partecipanti, in particolare Monica Pelati, presidente dell'ordine provinciale dei veterinari della provincia di Ferrara e i suoi ospiti, Cristina Saletti per l'ASL con la sua compagine, poi dopo il comandante della Capitaneria di Porto, i miei ragazzi e diciamo anche ovviamente l'assessore Cusio che ha fatto gli onori di casa a livello comunale e in particolare devo ringraziare però il mio chef Liborio Trotta che ha realizzato un cooking show con un piatto che valorizzava attraverso i cappellacci le vongole. Ed è stato molto bello perché è stato un momento di ricerca, non è un piatto che esiste nei nostri menu, qualcosa che ha esaltato la nostra voglia di sperimentare, di sposare i prodotti del territorio, della provincia che ha più marchi a livello mondiale perché è a livello europeo, è a livello nazionale e quindi mondiale e che molto spesso non ha la consapevolezza di quanto può impattare nella storia della Food Valley. Sono stato molto contento, è stata una bellissima partecipazione e speriamo di poter continuare. E' un settore nuovo quello del pesce, noi non ci troviamo sulla costa ma vogliamo dare un contributo a valorizzazione del nostro territorio. La provincia di Ferrara è anche questo. Si chiama Volontariato in Festa, spazi aperti di solidarietà, gioco e partecipazione ed un'iniziativa in corso questo fine settimana in Piazza Riostea. La manifestazione è organizzata da Terra Estensi con la partecipazione di 75 organizzazioni del terzo settore. E' la prima festa di tutto il volontariato, ha spiegato Laura Roncagli, vicepresidente di CSV Terra Estensi, che si svolge in piazza e che in questo modo coinvolge tutta la città e non solo volontari e associazioni. Si tratta dell'occasione per mostrare alla cittadinanza che il volontariato è una realtà importante per il territorio. Ciascuno di noi dona un po' di sé, del proprio sapere e della propria esperienza di vita e tutti insieme costruiamo un mondo migliore, più colorato e più giusto. La festa è fatta di tanti mondi che ogni giorno fanno cose importanti e lo vogliono raccontare. Ricordiamo che l'iniziativa in corso prosegue questa domenica 8 ottobre a partire dalle ore 15. E sono stati oltre 250 ferraresi che hanno aderito all'iniziativa del Lions per prevenire il diabete. Vediamo. Grande riscontro per l'iniziativa promossa dai Lions Club di Ferrara e di Santa Maria Maddalena con il patrocinio del Comune di Ferrara finalizzato allo screening e quindi alla prevenzione del diabete. Venerdì 6 ottobre 257 ferraresi si sono sottoposti fin dalla 9 del mattino ai test e alle visite del personale medico e paramedico nel gazebo allestito in corso martire della libertà. Sono state 153 le donne a fronte di 104 uomini con una buona presenza anche di giovani. Oltre a tanti cittadini ha sottoporsi allo screening anche l'assessore della politica sociale del Comune di Ferrara Cristina Coletti che ha ringraziato i Lions per un'iniziativa che ha definito di grande rilievo. E adesso il calcio parliamo della SPAL che torna al Paolo Mazza affrontando il Pescara questa domenica 8 ottobre alle 18.30. Sentiamo dunque quello che si è detto in conferenza. Quali novità ha apportato Colucci il nuovo allenatore? Che cosa potremmo vedere diverso domani rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza quando la SPAL era affidata al suo predecessore? Innanzitutto vorrei ringraziare il mister Di Carlo. Ovviamente quando va via un allenatore è una sconfitta per la squadra. però posso dire che mi dispiace perché il mister è davvero una grande persona, un grande professionista. Mi sono trovato molto bene con lui, la squadra era serena, non abbiamo ottenuto i risultati, quello è vero. Poi ovviamente la società ha fatto una scelta. Da parte mia posso solo dire che il mister ha dato tutto. Ripeto, mi ha lasciato tanto perché è stata una persona vera dal primo giorno. So che voleva fare di più, nella sua esperienza non ci è riuscito. Adesso si riparte con il nuovo mister, è arrivato molto carico. Si vede che ha giocato tanti anni ad alti livelli. Adesso sa lui quali punti dover toccare. Poi ovviamente quando prepari le partite in due giorni non è semplice. Sia per lui che per la squadra, specie quando vuoi dare dei nuovi concetti. Perché adesso il calcio è un po' cambiato rispetto a prima. Ci vuole più tempo per preparare le cose. Perché gli allenatori giovani sono tutti bravi, tutti preparati tecnicamente, tatticamente rispetto a prima dove c'erano altre priorità. Ci vorrà tempo, non ce n'abbiamo. Però sicuramente il mister darà le sue idee, ci dirà quali sono le sue idee. E da oggi iniziamo a preparare la partita. Chiaro che l'ambiente è fondamentale, no? Perché il calcio vive le emozioni. Quindi trasmettere emozioni, le emozioni possono essere positive o negative. Ovviamente in questo momento stiamo respirando tutti delle emozioni negative. Non è la partenza che speravamo, l'avvio di campionato che speravamo. Ci sono delle tossine, ovviamente, che dipendono dalla retrocessione dell'anno scorso, dagli ultimi campionati non brillantissimi. E quindi è chiaro che tutto questo si può riversare sulla squadra, sull'ambiente. È stato bravissimo Mimmo Di Carlo, in ritiro soprattutto, e a creare un ambiente sano, un ambiente giusto, motivato. Tanti giocatori che magari potremmo pensare o che vorreste andare via, tanti ragazzi hanno scelto di rimanere, anche qualcuno che è andato via avrebbe avuto piacere di rimanere. Questo è un grande merito dell'allenatore, che è riuscito comunque a ricompattare l'ambiente squadra. Ovvio che oggi il compito di tutti noi, che sono il responsabile della tecnica, scendere gli allenatori, i giocatori, tutti noi dobbiamo avere la capacità di lavorare insieme. Anche cercando di essere, non ti dico immuni, ma a estranearci da quello che può succedere. Sappiamo che alla fine è la squadra, i risultati e il lavoro, che sottolineo, non è mai mancato da parte di tutte le componenti, a dover trascinare gli altri. Trascinare gli altri, potete trascinare i 7 mila tifosi che vengono allo stadio, il Presidente e tutta la società, tutta la compaggia della società, comunque ci tiene forse ancora più di noi a che le cose vanno in una maniera migliore. Quindi tutto ciò diventa importante, diventa importante. Quindi ovvio che è l'ambiente, io parlo sempre di ambiente e di contesto. Il contesto è un contesto oggi non facile, ne abbiamo vissute tante. Sappiamo che è fondamentale mantenere l'equilibrio, così come nelle situazioni di euforia, così nelle situazioni difficili. Il campione è lungo, ci sono tante partite. estrenarci e lavorare per un bene superiore, che è il bene della spalla. E questa era la nostra ultima notizia. Come sempre vi ricordo, telestensio.it e i nostri canali social per questi e ulteriori aggiornamenti. Come sempre, grazie per averci seguito. L'appuntamento è rinnovato alla prossima edizione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.